Il maltempo di Ferragosto, ha causato tanti disagi.Ieri pomeriggio una turista è stata colpita da un ombrellone a lago di Santa Maria di Castellabate . L'oggetto è volato a causa del forte del vento. Come riporta il mattino i soccorsi hanno avuto difficoltà a raggiungere l'abitazione della donna poiché le strade erano troppo strette I medici hanno dovuta trasportarla in barella a piedi fino all'ambulanza, tutto sotto gli occhi increduli turisti e residenti